Sei stanco dei soliti matrimoni noiosi? No, in realtà non ne prendo cazzo. Sei stufo di vedere i matrimoni gypsy in cui ragazze di 12 anni si vestono come delle baldracche? Puoi finalmente coronare il tuo sogno di poterti sposare con il tuo cospi di Game of Thrones? Ne vedi come lo sarebbe no? Non preoccuparti, sta arrivando finalmente il wedding planner più simpatico e bonaccione che c'è. No, ti prego lui no! Di di sì ai matrimoni più romandici di tutta Westeros. No! Vieni stuprato dai tuoi cavalli. Ma che cazzo? Muori fatto a pezzi. Muori avvelenato. O semplicemente finisce arrostito da un simpatico drago. Wedding planner George Martin. Una nuova serie. Ogni volta che arriva all'immerno solo su Real Cosplayer. Ospite speciale della prima puntata, Walter Frey. Ottimo direi.